Siamo partiti bene in questo momento, nel senso che siamo riusciti a fare le cose che avevamo parlato, prendere il ritmo sotto controllo, avere pazienza in attacco e eseguire con molta pazienza in attacco. Questo l'abbiamo fatto nell'ultimo quarto bene. Poi un po' alla volta abbiamo subito il torno di viella, l'aumento della velocità e dell'intensità, ma soprattutto abbiamo pagato l'assoluta mancanza degli americani anche da noi, perché se è vero che probabilmente i giovani s'hanno fatto pagare la palla, ma a me che David Lodó ha fatto molto meglio. E per noi David Lodó un punto di riferimento da bene con il tante, domenica scorsa è fatto il 31, quindi stasera è caldo la serata, però per noi è un punto di riferimento in tutto il gioco d'attacco, noi appoggiamo molto la palla su di lui, chiaramente non è mancare tanto, ci siamo un po' smarriti, abbiamo provato anche a fare dei tiri che non abbattegono le nostre qualità, infatti David Lodó ha avuto la capacità di rientrare, aumentare l'intensità, prendere fiducia e aumentare l'intensità, che poi è la risposta principale di questa sparta. Noi siamo stati bravi a mettere un paio di tiri importanti, ci abbiamo creduto, abbiamo ricompattato in quei momenti la ripresa, però qualche buona male recuperata, quasi sfondamenti presi importanti, in momenti giusti e questo ci ha invitato un po' di fiducia un po' di ritmo, una squadra giovane ha bisogno anche di queste cose qua e questa volta questa cosa qui noi l'abbiamo capitalizzata andando avanti 7-8 punti che sono stati bellissimi. Sì, è stato veramente bravo, hai giocato con una concentrazione importante, ci sarà arrivato un po' tutti, un giudatore che mi ha assolutamente esperienza a questi livelli di conti e credo che la sua qualità non sia stata solo il fatto di aver fatto 29 punti, che sono alla fine di 29, quanto avere anche lavorato tanto e di presa su Ferguson, è un giudatore sicuramente fondamentale, che ha perso un po' di spazio e ha fatto per esso, quindi lui si ha fatto la doppia dimensione, ha lavorato tanto in difesa, con grande energia e restato un punto di rendimento, ha preso dei tipi importanti, ha preso responsabilità importantissima andando all'attaccare, prendendoci la responsabilità di meglio il giocatore, questo è un giocatore. Grazie per la visione!